E' il dottor Rossano Di Luzio, responsabile della campagna vaccinale dell'ASL, a tracciare un bilancio della vaccinazione anti-covid in provincia di Pescara e a comunicare le chiusure o i nuovi orari degli hub vaccinali. La provincia di Pescara è una delle più vaccinate d'Italia, per così dire, con il 90% della popolazione, anche se ora con le quarte dosi si è registrato un rallentamento. Sì, le attività vaccinali continuano, anche se stiamo riducendo con i centri vaccinali, perché c'è una riduzione dei vaccini, del numero dei vaccini somministrati. Dal mese di giugno avremo aperti il centro vaccinale di Pescara Ex Lidl, che si trova in via Colle Renazzo 11, la mattina dalle 9 alle 13, il martedì e il venerdì. Rimangono ancora aperti, scafa il 9 giugno, il pomeriggio dalle 15 alle 18 e il lab di Penne il 10 e il 24 giugno, sempre dalle 15 alle 18. L'outlet di Città Sant'Angelo invece è chiuso? Sì, l'outlet di Città Sant'Angelo ieri è stato l'ultimo giorno e avevamo numeri abbastanza bassi, per cui abbiamo deciso di chiuderli. Per quanto riguarda l'ex Lidl, fino a quando rimarrà aperto? Sicuramente il mese di giugno, abbiamo anche la possibilità di tenerlo aperto fino a settembre, ma sarà deciso mese per mese in base al numero dei vaccini che verranno effettuati. Dottor Dilussio, facciamo un bilancio delle vaccinazioni in provincia di Pescara? Le vaccinazioni in provincia di Pescara sono andate abbastanza bene, siamo una delle province con la più alta percentuale di vaccinati, abbiamo quasi raggiunto il 90% della popolazione totale della provincia di Pescara. Abbiamo fatto circa 757 mila dosi di vaccino, a Città Sant'Angelo abbiamo chiuso, abbiamo fatto più di 105 mila dosi e adesso stiamo effettuando la quarta dose e in provincia di Pescara siamo arrivati e abbiamo superato le 2.500 quarte dosi. Adesso infatti si procede con le quarte dosi per i fragili e gli ultraottantenni, come sta andando? Va un po' a rilento, ma questa lentezza della vaccinazione è dovuta al fatto anche che ci sono stati tanti positivi che hanno fatto una vaccinazione naturale, possiamo dirla. In autunno ci sarà un vaccino come potrebbe essere l'antinfluenzale, si può ipotizzare? Sappiamo che le aziende stanno studiando nuovi vaccini anche con le nuove varianti ed è possibile che all'autunno se la curva epidemica dovesse riprendere saremo costretti a fare un'altra vaccinazione. Previsioni è impossibile farne, ma il virus come si sta comportando? Ma come tutti i virus, i coronavirus nella stagione estiva diminuiscono o scompaiono, però poi nella stagione invernale riprendono vigore. Dunque non bisogna mai abbassare la quarte? Assolutamente no, infatti noi stiamo ancora facendo l'intervista con le mascherine.